Tanto entusiasmo, correttezza e sani valori per formare nuovi cittadini del domani, educandoli al rispetto delle regole e degli altri. Sono scesi in campo così i giovani impegnati nella Church Cup, l'atteso torneo di calcio tra le parrocchie di Favara. La lodevole iniziativa è organizzata anche quest'anno dal conduttore televisivo favarese Salvatore Fazio, che è presidente della Lega Calcio Interparrocchiale, impegnata a promuovere attività che danno lustro alla città e rendono protagonisti in positivo i giovani. I giovani, prima di confrontarsi attraverso lo sport, vivono un momento di preghiera e riflessione per imparare a mettere in pratica il messaggio evangelico, vivendo con gli altri nell'attività di tutti i giorni. Poi le partite tra i giovani di San Calogero, San Giuseppe Artigiano, Itria e Giovanni Paolo II con i ragazzi di Chiesa Madre e Transito. Nelle ultime edizioni si è registrata la vittoria per ben tre volte dei giovani della parrocchia San Calogero e una vittoria di San Giuseppe Artigiano. Questi i risultati di ieri sul campo Don Giustino, San Calogero-Giovanni Paolo II 1 a 9 e San Giuseppe Artigiano-Itria 5 a 2. Oggi alle 17.30 in programma San Calogero-Itria e a seguire San Giuseppe Artigiano-Giovanni Paolo II. L'evento è inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Ritorna nel segno della tradizione questo appuntamento fortemente voluto dai giovani di Favara che diventano sani protagonisti attraverso i sani valori della Chiesa Cattolica. Infatti concludono un percorso annuale all'interno delle parrocchie e cercano di mettere in campo quello che hanno appreso nel percorso annuale. I direttori di gara ogni anno fanno i complimenti a questi ragazzi, i direttori di gara che arbitrano partite in tutta la provincia, perché questi giovani dimostrano in campo lealtà, attaccamento ai valori e dimostrano davvero un grande affiatamento e questa è la cosa che sicuramente riesce a dare più importanza a questo torneo. Una novità di quest'anno è che c'è anche l'ingresso in campo degli immigrati che vengono suddivisi nelle diverse squadre per lanciare un messaggio di integrazione ancora più forte secondo quello che è il messaggio di Papa Francesco quello di aprire le porte a quante arrivano da terre lontane e i giovani attraverso anche il gioco riescono a dimostrarlo.